... Belle le divise, come mai oggi non l'avevano? Ah, le divise c'erano, ma erano sotto sequestro. E' bastato i suoi yes e sono venute fuori. Signori nella palline lontana, nel mio giardino è nata una pensée, il suo profumo che si sente affida. Però è carina la ragazza, eh? Quanto è buono sto dolci. Signori nella mia, perché mi fai? Signorina, non avrei mai immaginato che Salvatore avesse una cuginetta così graziosa. Neanch'io avrei immaginato di avere un cuginetto come lui. Pensare che cos'è il destino? Poco fa lei era una modesta impiegata postale e adesso è milionaria. Già, anche voi ora siete milionari. Mentre poche ore fa... Come? Niente. Speriamo che finisca bene. Amore mio, due parole che ti aspettano, amore a Dio, non lo devi dire più. Amore mio, due parole che ti aspettano, amore a Dio, non lo devi dire più. Amore mio, due parole che ti aspettano, amore a Dio, non lo devi dire più. Amore mio, due parole che ti aspettano. Amore mio, due parole che ti aspettano, amore a Dio. Amore, salvatore. Finiare le parole, salvatore. Amore. Amore, salvatore. Sono felice per te, te lo meriti Ma che fate, siete pazzi? Non aveva paura Eh, va bene, va bene Non aveva paura Bravi Caro Salvatore, cari concittadini Io vi invito tutti ad uscire alla pette Ah, bravo Cicillo lo sparatore, nostra gloria pirotecnica Ha dedicato all'illustre ospite una bomba a nove colpi No, andiamo Vai, vai, vai Accendo la scritta Appena esco nel teatro Atenzione, la bomba Andiamo Dove? Vi accompagniamo a dormire Quale è l'esco? Oh, bisogna finire, il deputato Oh, bisogna finire, il deputato Oh, bisogna finire, il deputato